Buonasera a tutti, stasera volevo commentare questa finale di Champions che mi auguravo, pensavo fosse più combattuta, dicevo chissà adesso che questo Liverpool ci dia una soddisfazione ma nel senso di novità, perché il Real è ormai ci è abituato a dominare, terza Coppa dei Campioni consecutiva, quarta in cinque anni, solo in Barcellona, altra squadra spagnola, ha interdotto questa egemonia, egemonia europea confermata dall'Atletico Madrid che ha vinto l'Europa League, quindi calcio spagnolo sugli scudi, ma come non parlare della partita di stasera con protagonisti Benzema, Bale, anche un bellissimo gol di Mané, bel giocatore, grande giocatore del Liverpool, ma come non parlare del portiere tedesco Carius, Carius, mi raccomando questo nome, ormai ne avranno dette tante, che vi devo dire? Vedete, voglio fare un brindisi in suo onore perché questo è un bicchiere con una papera, la si vede? Vedete, guardate che è un portiere tedesco, in suo onore, bel brindisi, e così se ne scende come se ne sono scese le sue mani, incredibile, ma se fosse capitato a un portiere italiano, chissà quando se ne sarebbero detto. A quei livelli è imperdonabile, imperdonabile il primo, ancora più del secondo. Sono senza parole perché è inutile che facciamo le dietrologie che il portiere è un uomo solo, che il portiere quanto sbaglia si vede, ma qua non era una partita del dopolavoro ferroviario, dove il ferroviere magari si mette i guanti e va lì a fare la papera, non è così, i giocatori a questi livelli possono sbagliare non in quel modo così evidente. Quindi i suoi due clamorosi esordi che valgono come due autocolle, in effetti, regalano la Coppa del Madrid. Poi anche la sfortuna dell'uscita di Salah dopo poco. E chissà come Manea era riuscito, nonostante tutto, a mettere in equilibrio la partita, poi che ci fai? Un po' questa sfortuna, un po' le papre, un po' un grande e bello, non c'è più storia. Quindi scriviamo questa pagina e ritorniamo adesso nella dimensione nostra italiana, in attesa dell'inizio del mondiale e adesso stanno venendo fuori tutte queste polemiche, tutte queste cose sul calciomercato, tutti questi nomi, l'Inter discatta, non discatta. Io credo che sia tutto prematuro, credo però che l'Inter abbia una solidità finanziaria maggiore di quel che si dica. Noi sostanzialmente siamo una società sana dal punto di vista finanziario, cosa che i nostri odiati cugini, come si dice, non hanno. E ahimè, là ci sono delle nuvole, ma nuvole temporalesche all'orizzonte. Non so, un Milan indebitato fino al collo con un presidente cinese che sembra una figura ombra con società fallimentari alle spalle. Vedremo, vedremo quello che succede, ci sta molto tempo davanti e ci aggiorniamo sulle novità. Mi dispiace veramente la partita di alcune ore fa, di questa sera, perché una finale avrebbe meritato, come dire, un esito diverso, anche dal punto di vista spettacolare. Invece questo Karakiri, fatto doppiamente dal portire, ha tolto un po' il sale, il gusto, il pato. Una finale che era sicuramente molto, molto più equilibrata di quello che poi è stata. Perché ovviamente se uno, cioè dieci tirano da una parte e un'altra è come se boicottasse, non c'è più partita. Va bene, questo è il mio commento e vi lascio con una buona notte, una buona domenica e alla prossima, grazie sempre che mi seguite.